E se è un'azione rivendicata da questo collettivo ambientalista ultima generazione, 5 gli attivisti fermati dalle forze dell'ordine in questo momento sono in questura, si sta valutando la loro posizione, un blitz avvenuto intorno alle 7.50 di stamane, vernice rossa sull'ingresso principale del Senato, ferma condanna da parte delle massime istituzioni dello Stato a partire proprio dal Presidente del Senato Ignazio Larussa, nessun alibi per un atto ingiustificabile che oltraggia tutte le istituzioni, dice Larussa, il Senato scelto perché non è dotato di un'area di sicurezza, sottolinea il Presidente del Senato, domani convocato il Consiglio di Presidenza proprio per valutare ogni decisione, c'è stata anche una telefonata tra Larussa e il Ministro dell'Interno Piante e Dosi, oltre alla solidarietà di Piante e Dosi anche la massima disponibilità ad aumentare la sicurezza intorno a Palazzo Madama. Ferma condanna anche da tutti gli altri esponenti dell'esecutivo ed esponenti delle forze politiche, il capogruppo di Fratelli d'Italia, Malan, al Senato, sottolinea dovrebbero essere loro a pagare i danni arrecati, serve una punizione esemplare per questi vandali, dice il leader della Rega Matteo Salvini, un grave attacco alle istituzioni per la capogruppo forzista al Senato Ronzulli, dello stesso tenore, anche le dichiarazioni che arrivano dalle opposizioni con Simona Malpezzi del PD che parla di un atto ingiustificabile, l'ambientalismo non giustifica queste azioni, sottolineano dal Movimento 5 Stelle dello stesso tenore, anche le dichiarazioni di Matteo Renzi per il Terzo Polo, chi giustifica queste azioni capisce meno dei vandali. Studio